Allora Sindaco, un altro importante tassello di storia consegnato alla città? Un'altra splendida tessera di questo mosaico che viene recuperata, una tessera che è diventata un coccio rotto e abbandonato e adesso invece è splendere lo splendore di questa magnifica piazza, questa statua, questi palazzi. Io credo che andando di questo passo qualcuno scoprirà che le tessere belle di Palermo sono più numerose e più belle di quelle meno belle. Pronti? Presente, forza uno, due! Va bene così, va bene! Ci vediamo presto!